Un pianto e un urlo che valgono tutto, un anno e mezzo veramente complicatissimi per la giovanissima 22enne trentina della Val di Nonne Letizia Paternoster, i problemi al ginocchio, l'incidente in allenamento quando è stato investito da un'auto e ha riportato diverse fratture, il covid che ha preso in maniera molto appunto marcata e che l'ha debilitato per parecchio tempo e appunto grosse difficoltà Ma quest'oggi si sblocca e conquista l'oro e il titolo di campionessa del mondo dell'eliminazione femminile ai mondiali di ciclismo su pista di Roubaix 2021 Una vittoria di grinto, una vittoria voluta, una vittoria sperata, un pianto liberatore dopo aver tagliato la linea del traguardo, veramente emozioni non finire, emozioni come quelle che ci ha dato Martina Fidanza con l'oro di ieri nello scratch E solamente qualche minuto fa l'oro e la gioia, la grandissima gioia per la conquista appunto del titolo mondiale nell'inseguimento a squadra dopo quello conquistato a Tokyo È un momento d'oro per lo sport italiano, un 2021 incredibile ed è veramente un momento di gloria per il ciclismo su pista italiano Con ragazze giovanissime, ragazze e ragazzi giovanissimi che stanno veramente facendo risultati clamorosi Veramente grandissima gara, tra l'altro eliminazione, disciplina che a me onestamente piace tantissimo, è una delle gare che mi piacciono veramente di più Molto adrenalinica a ogni giro, l'ultima appunto del gruppo, quella che è in fondo con la ruota posteriore appunto dietro a tutte Viene eliminata finché non ne resta solamente una E in questo caso a rimanere da sola è stata Letizia Paternoster Una freccia azzurra, la 22enne di Kles che conquista appunto questo grandissimo titolo iridato Restano per le ultime 5 posizioni Tra l'altro a sorpresa, sesta ad essere eliminata, diciamo sesta posizione, sest'ultima ad essere eliminata L'atleta di casa, la Forten, una delle grandissime favorite che ha deluso proprio nel velodromo di casa di Roubaix Con appunto il pubblico che è esploso appunto all'eliminazione della francese Forten Le ultime 5 ad essere rimaste sono la Lituana Balesite, la Russa Novoskaya, la fortissima statunitense esperta Janice Vervalente Lotte Kopechki, un atleta fortissima sia su strada che su pista Un atleta veramente formidabile dotata di un grandissimo spunto veloce E appunto la nostra Letizia Paternoster Letizia Paternoster che intorno a metà gara ha rischiato a un certo punto Si è ritrovata in fondo ma è stata veramente perfetta Perché si è ritrovata all'interno Sapeva che rimanendo all'interno sarebbe stato molto molto pericoloso Perché solitamente chi rimane all'interno trova un muro dietro davanti E non riesce a recuperare posizioni Per cui si è lasciata sfilare da sola Si è riportata in penultima ruota Ha sprintato e si è riportata nelle prime posizioni Veramente lì ha dimostrato un'intelligenza tattica micidiale Quindi grandissima gamba ma anche una grandissima intelligenza tattica Per una ragazza che ha solamente 22 anni E quindi ha davanti a sé una carriera infinita Restano appunto in 5 Dopo essere eliminata la Balesite La prima appunto la Lituana Poi viene eliminata la russa Novlovsky A questo punto la Paternoster è sicura di lottare per un podio Ma lei ovviamente non basta Jennifer Valente lancia lo sprint Per quanto riguarda appunto il terzo ultimo giro Però viene sorpassata dapprima da Letizia Paternoster E in seguito anche da Notte Kopecki E quindi Jennifer Valente si deve accontentare ancora una volta Così come nello scratch della medaglia di bronzo E appunto c'è un testa testa incredibile tra la fortissima Notte Kopecki E la giovanissima Letizia Paternoster In rampa di lancio In rampa di lancio Che appunto di grinta riesce a sorprendere Notte Kopecki Perché inizialmente era davanti Poi si è fatta sorpassare dalla Belga Si è messa a ruota Si sono ritrovate in alto appunto alla Balaustra A questo punto a circa 150 metri dalla conclusione Letizia Paternoster è partita con una fiondata veramente micidiale Sorprendendo Notte Kopecki che ha reagito troppo tardi È riuscita a prendere la ruota ma non è riuscita a nemmeno da affiancarla Quindi veramente una vittoria incredibile Vittoria veramente con dominio nel finale Per le Tetra Paternoster Che è stata fantastica sotto tutti i punti di vista Veramente emozione non finire in questi mondiali di ciclismo su pista Di Roubaix 2021 Già tre ori per l'Italia Ci rendiamo conto tre ori Ho capito che siamo nel 2021 Ci possiamo aspettare di tutto Ma tre ori in due giorni Adesso fino a domenica avremo tantissime altre opportunità Tra l'altro è arrivato anche l'argento Nell'inseguimento a squadre femminile Battute dalle fortissime tedesche Che ovviamente erano quasi imbattibili Tre volte il record del mondo alle Olimpiadi Uno dietro l'altro Insomma veramente delle aliene Però si sono ben comportate comunque le nostre ragazze italiane Anche loro giovanissime E poi appunto Letizia Paternoster Martina Fidanza E l'inseguimento a squadre maschile Adesso ci resta l'inseguimento a squadre maschile Con l'inseguimento individuale maschile Con Gunn e Milan Ci restano le varie carte Viviani nell'Omnium Balsamo nell'Omnium E nella Meris Insomma veramente Grandissime aspettative Anche per i prossimi giorni Ma già Qualora si chiudesse così Questo mondiale Sarebbe comunque un mondiale glorioso Per l'Italia Che veramente Sta dimostrando di essere Tra i nazionali faro Del ciclismo su pista Nelle specialità Endurance Ancora tanto lavoro Nella velocità Speriamo che appunto Anche questi risultati Nella disciplina Nelle disciplina Endurance Possano portare magari A dare una spinta Per costruire qualche velodromo Per far crescere Il movimento su pista Anche per quanto riguarda la velocità Comunque ragazzi Direi che per questo video Vi tolge un commento E piaccia di iscrivervi Se non ci sono Nostra per la visione Ci vediamo A un prossimo video A un prossimo video